Il centro-destra trionfa nelle elezioni regionali in Umbria, questo il commento a caldo nella notte di Matteo Salvini. Il centro-destra trionfa nelle elezioni regionali in Umbria, questo il commento a caldo nella notte di Matteo Salvini. Il centro-destra trionfa nelle elezioni regionali in Umbria, questo il commento a caldo nella notte di Matteo Salvini. Per creare un'alleanza, ha aggiunto Zingaretti. Il leader dell'ISIS, Abdu'un Akar al-Baghdadi, è stato ucciso nel corso di un raid americano in Siria. Ad annunciarlo il presidente USA, Donald Trump, dalla diplomatic reception room della Casa Bianca, è morto dopo essere fuggito in un vicolo cieco, piangendo e urlando. Al-Baghdadi si è fatto soltare in aria e ha ucciso tre dei suoi figli, che erano con lui. Sotto la mia direzione abbiamo distrutto il califato? I terroristi non devono dormire, sonni tranquilli, ha dichiarato Trump. Allarme per i furti di olive e uva nei campi pugliesi, con col diretti che denuncia. Centinaia di quintali di olive e uva da tavola vengono rubati nella notte in Puglia e gli agricoltori si stanno organizzando in ronde notturne e diurne per fermare i malviventi con i vari furti che provocano un danno da oltre 300 milioni di euro l'anno. Ne nasce un clima da far west, con bande ben organizzate, che in due o tre minuti riescono a portare via oltre 30 kg di olive da ogni albero, battendo gli olivi con mazze e anche di ferro per far crollare il maggior numero di prodotto, danneggiando al contempo le piante.